Il leader della CGL nazionale Susanna Camusso tiene a battesimo il nuovo progetto editoriale della Camera del Lavoro di Bari. Gli auguri della Camusso per la nascita di CGL Bari Web TV. Votato con oltre il 70% delle preferenze è Domenico Ficco, 36 anni, il più giovane segretario d'Italia della Funzione Pubblica, eletto alla guida della più grande categoria della CGL di Bari. Sentenza della Corte Costituzionale, inammissibile l'articolo 4 che reintroduce la privatizzazione dei servizi pubblici locali, la Puglia capofila del ricorso. Benvenuti alla prima puntata del nostro nuovo settimanale di approfondimento. È Susanna Camusso, leader della CGL nazionale, a tenere a battesimo il nuovo progetto editoriale della Camera del Lavoro di Bari. Sentiamo gli auguri di Susanna Camusso per la nascita di CGL Bari Web TV. Intanto i migliori auguri, visto che è un nascituro e dall'altro ogni volta che la nostra organizzazione decide gli strumenti per comunicare di più, determina solo le condizioni di un vantaggio, soprattutto per le persone a cui ci rivolgiamo, per i lavoratori, ma per chi ha bisogno di un servizio, per i pensionati. E c'è un grande bisogno perché noi lavoriamo sempre perché le nostre televisioni, piuttosto che radio, piuttosto che siti web, siano un luogo dove ci sono le storie del lavoro, le risposte al lavoro, la funzione e l'importanza del lavoro e ce n'è un grande bisogno, anche perché altri mezzi, molto più potenti dei nostri, però di questo non si occupano e sbagliano. L'augurio che poi ci si può fare, perché tante esperienze stanno sorgendo nelle camere del lavoro, nelle singole realtà e che poi tutto questo diventi una grande rete e quindi diventi anche un elemento di relazione, di scambio tra le tante strutture, le tante esperienze, perché un modo di ridare unità a questo paese è anche ricominciare a parlarsi e ridurre le distanze che magari ci sono dal fare un'iniziativa da una parte e un'iniziativa dall'altra e non collegarle per trasmettere. È il valore di decidere che si fa questa iniziativa in rapporto anche con il cemellaggio, con la Camera del Lavoro di Parma in questo caso, come dire, un evento porta direttamente a questa relazione, ma io credo che abbiamo un grande bisogno di ridare anche per la nostra organizzazione il senso di un paese e di una capacità di scambio delle esperienze, perché ognuno di noi ha da imparare dall'esperienza degli altri. Il rilancio della Camera del Lavoro di Bari passa attraverso il ricambio generazionale dei gruppi dirigenti, ma anche attraverso l'utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione. CGL Bari Web TV nasce proprio con l'obiettivo di far diventare il sindacato un vero e proprio punto di riferimento. Le finalità di questa nuova sfida editoriale nell'intervista a Pino Gesmundo, segretario generale della Camera del Lavoro di Bari. Il progetto di rilancio della Camera del Lavoro di Bari passa sicuramente, oltre che attraverso il rinnovamento del gruppo dirigente, la valorizzazione dei giovani, degli entusiasmi, delle nuove passioni intorno alla nostra organizzazione, ovviamente senza trascurare le esperienze, i compagni che da sempre hanno dato il loro impegno alla nostra organizzazione su questo territorio, passa naturalmente anche attraverso una nuova modalità di confronto, di dialogo con gli iscritti, con i cittadini di questa città. L'idea di mettere su una Web TV è esattamente l'esigenza nostra di provare a interloquire con un mondo che probabilmente noi intercettiamo, un mondo che è quello dei giovani, un mondo che è quello che utilizza i nuovi mezzi di comunicazione, quindi per questo noi stiamo lanciando questa nuova iniziativa che sta nel progetto della Camera del Lavoro di Bari di riaffermazione forte su questo territorio, del proprio ruolo e delle proprie modalità di confronto con i cittadini per lanciare i nostri progetti. Avremo bisogno di questo strumento perché è uno strumento importante, adesso stiamo lavorando su un progetto di rilancio sulla città di Bari, un progetto che stiamo costruendo insieme a tutte le organizzazioni sul territorio, imprenditoriali, con l'università, il Politecnico eccetera, io penso che attraverso questo strumento possiamo anche lì divulgare meglio le nostre idee e provare a interloquire meglio con i cittadini e i lavoratori. Speriamo, siamo sicuri che la cosa riuscirà, abbiamo avuto in questo senso anche il plauso della CGL nazionale, la stessa Susanna Cromusso si è complimentata con noi e crede anche lei in questo progetto, l'ha voluto testimoniare anche lei attraverso l'intervista, peraltro sono convinto che questi strumenti sono fondamentali e indispensabili per la nostra organizzazione, ovviamente senza trascurare gli strumenti classici nostri della comunicazione che sono le assemblee sui posti di lavoro intanto fondamentali e indispensabili, ribadisco le iniziative in tutti i comuni, i dibattiti, i convegni, ma insomma questi strumenti hanno anche un loro valore, noi dobbiamo provare, non trascurare nulla, c'è un grande bisogno di interloquire con la nostra organizzazione, noi faremo il possibile che tutti quanti in qualche modo possano contattarci, faremo il possibile che a tutti quanti possa arrivare il nostro messaggio, possano arrivare le nostre idee perché c'è bisogno di punti di riferimento, la CGL rimane un grande punto di riferimento per i cittadini e per i lavoratori, purtroppo penso sempre più isolato come punto di riferimento nel momento in cui c'è un problema di una politica che non riesce a interloquire, il nostro compito invece è quello di ampliare il nostro livello di intervento e il nostro livello di comunicazione. Speriamo che questo strumento possa essere utile, anzi noi siamo sicuri, peraltro stiamo lavorando con professionisti seri che sicuramente conoscono bene il loro lavoro e ci daranno una grande mano perché questo sia un risultato importante per la nostra organizzazione ma possa avere dei ritorni a beneficio dei nostri iscritti e dei cittadini paresi. Lo avete sentito dai nostri titoli è Domenico Ficco, 36 anni, il più giovane segretario d'Italia della funzione pubblica, eletto alla guida della categoria più grande della CGL di Bari, da ex precario ha il sogno di stabilizzare tutti. Sentiamo. Per me l'importanza di questo ruolo è proprio all'interno della valenza di questa categoria, quella del pubblico impiego, una categoria che è completamente vessata negli ultimi tempi con la riforma delle pensioni, con la riforma della revisione della spesa e ovviamente acquista sempre più significato questo ruolo nel momento in cui è rappresentato da un giovane e quindi l'importanza anche dei giovani all'interno di questa categoria, la possibilità di dar loro l'ingresso al mondo del lavoro. Cercherò di dare questa iniezione appunto di vitalità, di entusiasmo, di forza giovanile a questa categoria ovviamente senza mai dimenticare quelle che sono le problematiche sempre in primo piano all'interno del mondo del lavoro pubblico. Come pensi di muoverti? Quali saranno i prossimi step? Il primo step in assoluto che penso sarà il fil rouge del mio mandato è la lotta alla precarietà. Vengo da quel mondo, da quel mondo ci sono passato, so che cosa significa viverlo, lottarci e quindi lottare contro una forma particolare di vita, non solo di lavoro. Quindi la priorità in assoluto, io la darò alla lotta la precarietà tanto cercando di incidere sulle politiche a livello nazionale ma soprattutto dandomi da fare per debellare completamente il precariato qui in provincia di Bari. Quello che io vorrei dire alle nuove generazioni di lavoratori è appunto di continuare a credere nel valore del sindacato perché sicuramente è una spalla forte su cui contare e soprattutto di questi tempi è importante non essere mai soli nelle battaglie lavorative. E chiudiamo parlando di trasporti. La Corte Costituzionale dichiara inammissibile l'articolo 4 del decreto 138 del 2011 con il quale veniva reintrodotta la privatizzazione dei servizi pubblici locali. La Puglia è capofila del ricorso. Sentiamo Luigi Verdoscia, segretario Filt CGL Bari. La sentenza è recentissima, è del 20 luglio e ha dichiarato in costituzionale l'articolo 4 del decreto 138 del 2011 poi convertito in legge. In sostanza questo significa che è andata incontro praticamente alla volontà espressa dal referendum popolare sui servizi pubblici locali e quindi noi adesso dovremmo in qualche modo mobilitarci e mettere in campo tutte le iniziative possibili per dare corpo, voce a questa sentenza e a mio parere significherà mobilitarsi a livello locale con lo stesso comune, potrei prendere ad esempio la stessa privatizzazione dell'AMTAB, della società di trasporto pubblico, di trasporto urbano, e a livello nazionale e a livello parlamentare affinché sia data voce e corpo a questa sentenza che rende in qualche modo giustizia rispetto al referendum popolare. E quindi in sostanza crea un maggiore equilibrio rispetto alle questioni della privatizzazione. Noi abbiamo espresso sempre volontà contrarie alla privatizzazione in quanto pensiamo che i servizi pubblici possono essere gestiti in maniera efficace anche dal pubblico e quindi quanto di buono è stato fatto in questa città relativamente al trasporto pubblico locale, crediamo che non sia propriamente giusto affidarlo nelle mani dei privati che improvvisamente si ritroverebbero anche in mano, quanto di buono fatto in termini di politica di mobilità urbana. Quindi come intendete muovervi? In questo senso intendiamo muoverci a livello locale interloquendo con il Comune, con l'amministrazione comunale rispetto per esempio alla privatizzazione della stessa Amtab, la società di trasporto urbano. E a livello nazionale credo sia necessaria un'iniziativa dell'intera CGL a livello parlamentare affinché si possa dare corpo e voce a quanto espresso da questa sentenza della Corte Costituzionale. Bene è tutto, termina qui questo nostro primo settimanale di approfondimento, potete seguirci su www.cglbari.it Arrivederci!